Facciamo queste pochissime pratiche velocemente. 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 Assessore Rossetti, determinazioni in merito al fatto di stabilità regionalizzato tra l'anno 2015. Assessore Rossetti e Assessore Boitano, decreto 29.498 del 2015 dell'amministratore unico dell'arte di Genova, sempre bilancio economico per l'esercizio 2015. Assessore Rossetti, DPR 353.97, legge regionale 28 del 2009, siti Rete Natura 2000, intesa con il Ministero dell'Ambiente per la definizione delle zone speciali di conservazione. Vicepresidente, approvazione e contratto 2015 con l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato per fornitura ricettaria, impegno di euro 670.000. E poi c'è dal Vicepresidente, nuove modalità organizzative e gestionale per i corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo. Poi c'è una comunicazione dell'assessore Rossetti di adesione sempre alla stazione unica faltante del comune di Bagliardo. Allora, possiamo spegnere, concludere. La prossima giunta la fareà il 30 alle 11. Grazie a tutti.